Perde il controllo del mezzo che si rovescia e finisce ruote all'aria, ferito il conducente. Il sinistro domenica sera torna alle 23 in via Ogni Santi a Bassano. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto l'autista dal mezzo e l'hanno consegnato ai sanitari del suo M118. È stato trasportato al San Bassiano per accertamenti, rilievi da parte della polizia locale.